E questa è la nuova Alfetta. I vetri elettrici, il retrovisore elettrico. Tutto compreso nel prezzo. E quella è la Giulietta. Ma allora i lavatergifari, l'antenna radio. Tutto compreso nel prezzo. Ma allora anche nell'Alfa Sud. Volante regolabile, contagiri, orologio digitale, quinta marcia. Tutto compreso nel prezzo. Impara a leggere il prezzo della tua Alfa Romeo. Perché solo una casa seria ti dà tutto di serie. E tutto compreso nel prezzo. Grazie.